Voilà, eccomi qua! Voilà, voilà! Eccomi qua! Ci siete? Ci siete? Vediamo la prima che si collega, vediamo, 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 scrivete mi raccomando, vediamo chi c'è, scrivete un pochino così so che siete, vi saluto, che oggi è il grande giorno, Gabriella Calò, grande Gabriella Calò, oggi sarai gratificata, qua c'ho tutta la lista, dai dai colleghiamoci, siete felici di vedermi? Mi state vedendo un po' spesso ultimamente, è vero? Manazza, allora scrivete, scrivete, fatemi, ditemi ciao così io magari leggo, oh, Veroni, Carla, ciao tesoro, Eugenia, Gelso, l'amore mio, Carla, Laura, Laura, dai taggate tutte le persone che dovranno essere nominate nella casa non del grande fratello, ma di Magic Cooker, le ricette del cuore, ma nominate nel senso buono, ciao Claudia, dai dai dai, che oggi è una giornata spettacolare, gratificheremo tutte quelle persone che hanno deciso di fare la raccolta punti, che a sua volta hanno fatto già il primo step, il secondo step, terzo, quarto, che hanno deciso poi di collaborare con noi, bravissime, ciao Zia Maria, Emanuela, ciao, ciao Emanuela, ciao Rosalba, adesso aspettiamo un pochino, un minutino, che si collegano tutti, diamo l'opportunità a tutti, perché chi magari lavorava, insomma, così si collegano, va bene? Anna Zoncu, ancora in Sardegna, sei? Eh? Dai, dai, su, su, collegatevi, ciao Maria Grazia, ciao, allora colleghiamoci, taggate tutte le persone che dovranno essere comunque gratificate, perché è anche giusto, e magari taggate quelle persone che sono ancora incerte, indecise, indecise, di aprire una raccolta punti, io glielo spiegherò nel frattempo, che gratificherò le persone, nella maniera più semplice, perché è semplice la nostra raccolta punti, ok? Ciao Antonella, giusto? Ciao Maria Rustico, oh mia cugina, ciao Chiara, si chiama come me, guardate, è a Dante Chiara. Oggi mi sono coperta un pochino, ragazzi, c'è un po' di freddo, oggi qua c'è brutto tempo, ma noi portiamo il sole, eh? Ok? Antonella. Danila, barone, buon pomeriggio a te. Chiedo alle mie colleghe, Katia Ferretti, Palma Ritacco, Veronica Briatico, Tito di Carlo Antonio, il nostro leader, la Cersosimo, la Iantorno, ecco Maria, amore mio, Barbara, ciao tesoro. Oh Jessica Spagnolo, come sono felice di vederti qui, sono proprio felice. Allora, dai, dai, su, 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 che siamo ancora pochine, qui c'è una bella lista, mi sembra strano, no? Perché qua abbiamo da chiamare, eh ragazze, su, su, brave, brave, brave. Avete qualche domanda? Ieri vi è piaciuta la diretta sorpresa? Vi piacciono queste sorprese? Queste ricettine light al volo? Ciao Manuela, ciao la mia pesciolino, dai, su, su. Avete taggato tutti? Se mi date il via io magari inizio, poi la gente che si collega, si collegerà, insomma. Ok, state tutte bene? Da dov'è che state guardando la diretta? Io da Milano e voi? Perché qua la raccolta punti l'abbiamo fatta, non è tanto da territorio, no? Quindi l'abbiamo allargata proprio anche all'estero, eh, non solo in Italia. Piacciono moltissimo, Gabriella Calò, buon pomeriggio, dai, dai, grazie a Procopio, Gualtieri, Valentina, buon pomeriggio a te. Bella ricetta, Daniela, ti è piaciuto? Beh, ho visto che avete postato, qualcuno l'ha fatta proprio, tanto traguova, era facilissima. Si blocca? Mi vedete bloccata, ragazzi? Mi vedete, mi sentite bene? Rita, Anna, sono felice. La Skincard dice, ciao tesoro. Da Capurizzuto, eh, oggi in diretta, zia, hanno fatto un dolce spettacolare. La nostra concetta rock ha fatto un dolce, ragazzi. Guardatevi la diretta perché è da fare, è da fare, punto. Allora, io aspetto tutte voi, eh, se mi dai l'ok, e ci sono tutte, assicuratevi che ci sono tutte le raccolte punti per gratificarle, insomma. Perché è anche giusto che vengano nominate. Perché si sono impegnate e hanno raggiunto degli step importanti dove hanno scelto il loro premio. Sentiamo e vediamo bene, perché io ho visto che una signora ha scritto si blocca, molto probabilmente è la sua linea. Anche perché, ragazzi, io sono carica da quando c'è stato il lockdown, ho rafforzato tutto. Poi, avendo l'antenna di canale 5, insomma, no? Posso iniziare? Ok. Bene, Antonella, sono felice che l'hai fatta. Avete girato il link? Ecco, girate il link della diretta su tutti i gruppi, ok? Perché magari tante volte non la vedono. Ok? Perfetto. Il rotolo di frittata. Benissimo. Allora, iniziamo. Come tutti i giovedì, noi ci siamo presi l'appuntamento. Allora, io sono il portavoce, ma come sapete qui ci sono tante squadre nel gruppo Magic Cooker e le ricette del cuore. Ok? Noi ogni giovedì gratifichiamo, perché riteniamo che sia importante, gratificare tutte quelle persone che hanno scelto di fare una raccolta punti e che magari tante, tante, hanno deciso comunque di collaborare con noi. Perché siamo una bellissima famiglia, ci aiutiamo tutti e quindi devo dire che veramente ne stanno entrando a migliaia. Allora, diciamo che questa è una missione, non solo un passaparola, ma noi abbiamo una missione come azienda. Quindi far conoscere il nostro prodotto, far mangiare sano a tutte le persone e poi perché no, belli anche fuori perché abbiamo anche l'altra linea. Ok? Allora, come dicevo, tutti i giovedì, oggi premieremo, lo faremo ogni giovedì, step by step per chi ha raggiunto degli step importanti. Quindi io inizierei dal primo step. Quindi quelle persone che hanno deciso, come dicevo prima, di mettersi in gioco attraverso un passaparola, invitando le loro amicizie, i loro parenti, chi ne ha più ne metta, al nostro gruppo. Perché lo sapete che noi siamo a disposizione di tutti voi, anche se lavorano. Hanno invitato queste persone alla diretta e hanno raccolto i punti perché hanno parlato bene di questo prodotto, che è molto salutare. E quindi hanno, diciamo, hanno scelto di fare questa raccolta punti. E quindi oggi iniziamo dal primo step. Vediamo queste raccolta punti, queste persone che sono state bravissime. E vi chiedo un favore, se siete in linea, diteci anche il vostro parere. Ok? Allora, vediamo il primo step. Cosa voglio dire col primo step? Che hanno fatto cinque punti. Poi vediamo insieme cosa sono, cos'è un punto. Ok? Allora, abbiamo Battiata Maria Giovanna Antonella Bellomo Veronica Manigrasso Bellina Antonella Ornella Nicolini Rodigari Norma De Febis Loredana Concetta Saffioti Daniela Panuccio Borchetta Viola Greco Anna Anna Palermo Patrizia Muglia Daniela Froio Marco Mistretta Rosaria Destro Angela Pandino Barbara Calò Luana Lucarelli Gianluca Lai Meride Buono Teresa Pia Bartolillo e Gianni Madia Ok? Quindi queste persone io gli faccio veramente i complimenti perché hanno preso il primo regalo se qualcuno è in linea può testimoniare perché qui ci sono delle persone che ancora sono in stand by no? per fare la raccolta punti perché dicono ma chi è che ci regala qualcosa così gratuitamente? Invece se siete qua e perché l'avete avuto il vostro regalo senza spese di spedizione è arrivato il corriere a casa e l'avete aperto è così o no? C'è qualcuno che può confermare almeno per il primo step loro hanno raggiunto i cinque punti cosa voglio dire? Loro hanno fatto il passaparola l'amica ha comperato un kit l'altra amica ha preso un'altra cosa e sono tutti punti cumulabili ogni 100 euro di fatturato viene conteggiato un punto se io ho fatto 69,90 mi vengono conteggiati i 60-70 pc 70 punti ok? confermo bene sì tutto vero quindi vi faccio i complimenti perché per noi le testimonianze sono molto importanti ok? quindi come vi dicevo un punto potrebbe essere anche cumulabile io non è che devo spendere subito 100 euro indipendentemente non li devo fare io ma posso avere la mia amica che mi aiuta a fare la raccolta punti ok? quindi lei mi spende 70 pc mi valgono 70 l'altra mia amica me ne vale 30 e sono 100 e quindi vado a fare un punto ma ragazzi vi dico anche c'è gente che anche in due giornate ha fatto il primo il primo il primo step quindi voglio dire veramente è facile anche perché facciamo tutto noi la cosa da fare semplice che facciamo tutti i giorni e nessuno ci paga per fare questo è il passaparola qui l'azienda Life Prime vi paga per questo in questo caso vi regala poi se c'è qualcuno che ha finito la raccolta punti dice beh guarda sai che c'è facendo le stesse cose prendo anche delle provvigioni perché no o no quindi sì Tiziana Pilloni sì sì non è come il supermercato che spendo per avere un punto devo spendere per dire 10 euro ok? ti faccio un esempio se ne spendo 16 5-16 6 punti se ne vanno invece da noi sono cumulabili ci tengo a precisarlo quindi quello che voglio dire a tutte queste persone che adesso hanno iniziato no? e hanno preso il primo regalo di fare anche loro il passaparola portiamo avanti questa missione ok? perché è bello regalare a tutti passiamo il favore mo lo dovete fare mo mo allora adesso allora siamo felici per tutti quelli che hanno scelto di provare la nostra meravigliosa raccolta punti provare per credere mo lo dovete fare vero? come dico sempre mo mo ora vediamo allora sì brava Veronica se io faccio 71 euro sono 71 punti faranno cumulo e mancano 29 euro per fare un punto sono cumulabili ne faccio 170 devo arrivare al secondo punto me ne mancano 30 ok? perfetto confermo anche io ho ricevuto il mio primo regalo e ne siamo veramente veramente felici ora vediamo il secondo step allora abbiamo Olivia Nicastro ragazze lei in una dimostrazione ha fatto il secondo step e in arrivo il terzo quindi cosa vuol dire? ha ricevuto già i due regali perché ha fatto 10 punti abbiamo Gabriella Calò che ha ricevuto anche lei due regali pensate appena finite il quinto il quinto punto voi cliccate chiedete la vostra referente mi dice quale regalo vuoi? con un click parte il regalo pensate che bello poi abbiamo Vanessa Maiocchi anche lei ha il secondo step che bellezza Laura Marino poi abbiamo Jessica Dania Spagnolo che ha fatto il secondo step e pensate ieri ha deciso di collaborare con noi e di diventare una consulente passa direttamente con una bella provvigione ha preso i due regali poi ha detto ma sai che c'è? se Jessica è qua può confermare dice mi trovo bene è una bella famiglia faccio le stesse cose mi pagano pure ma a me conviene no? quindi complimenti a Jessica Spagnolo poi abbiamo Grazi Caffa anche lei secondo step anche lei ha deciso di collaborare con noi pensate che bello abbiamo Maria Pia Cao Carola Roberta ragazzi siete fantastiche ecco allora queste dico belle raccolte punti che sono già arrivati al secondo step prendete esempio da Jessica e Grazi hanno preso i due premi gratuiti facendo le stesse cose hanno deciso comunque di collaborare di diventare delle consulenti ragazzi semplicemente facendo le stesse cose ok oggi qua non parliamo di piano marketing ma vi garantisco che il nostro piano marketing è uno dei migliori siamo un'azienda italiana e un lavoro meritocratico ricordatevelo non è per piramidale guadagni al primo no guadagno prima io che lavoro e poi va in su quindi è una cosa molto bella però poi chiedete alle vostre referenti perché faremo un meeting dove vi spiegheremo farete tutte le domande del caso va bene quindi brave 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 ora passiamo al terzo step cosa vuol dire il terzo step che hanno fatto 15 punti con questo cosa voglio dire che hanno ricevuto tre regali abbiamo Marco Serra e Giuseppina Federici complimenti complimenti di cuore veramente anche a voi dico continuate all'infinito la raccolta punti rimarrete segnalatori oppure collaborate con noi che è una cosa bellissima poi vediamo per ogni tuo acquisto acquisto di amici parenti raccogli punti puoi ricevere dei regali gratis poi se hai il desiderio diventi o meno consulente bravissima brava 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 allora domani ovviamente per chi vuole saperne di più faremo un meeting dell'opportunità spiegheremo in una neanche mezz'oretta per tutte quelle persone che magari vogliono iniziare la collaborazione con noi la faremo in zoom per chi ha zoom chi non ha facebook lo farà con zoom e chi non ha zoom lo farà in live vi proietteremo tutto lì ok in modo che vi potete rendere conto poi adesso poi abbiamo finito oggi ne abbiamo messi un po' così si chiacchiera anche di più abbiamo al quarto step Carmela Talarico cosa vuol dire? che ha fatto 20 punti ragazzi Carmela complimenti questo è un invito o rimani segnalatrice a vita o vieni a lavorare con noi ragazzi noi siamo una grande famiglia e sosteniamo tutti chi ha iniziato da poco può vedere no? perché noi lavoriamo di squadra nessuno è abbandonato a se stesso siamo una squadra molto unita e collaboriamo tanto con tutti veramente con tutti aiutiamo tutti sì è straordinaria la nostra azienda quindi noi abbiamo una missione noi vogliamo passare il favore a tutti aprire più raccolte punti possibili perché ricordiamo ci sono tante persone che magari non vogliono dirlo no? magari dietro quella telecamera lì non vogliono dirlo magari in questo momento non possono e perché no? magari hanno tante amicizie o poche perché bastano anche tre amiche ragazze perché se una mia amica io la conosco la invito ma non è detto che io conosco le amiche le sue amiche quindi il giro si allarga capito? e non dite non fa per me perché questo è un lavoro che fa per tutti ricordiamoci che il passaparola noi lo facciamo ogni giorno eh? ricordatevi che se a me piace una cosa parlo con un'amica e la convinco vedi che è bello dove l'hai preso l'ho preso lì la mia amica va negoziante non lo paga qui avete comunque qualcosa in cambio giusto? quindi lo fate da sempre da che eravamo piccoli mi raccomando quindi lo potete fare tutti non dovete avere paura perché chi ha paura non deve riuscire neanche di casa dico sempre vero? oh allora io volevo leggere c'è qualche testimonianza o qualche domanda in più io penso di essere stata molto chiara molto molto chiara io settimana fa una io una settimana fa a fare domande oggi ho ordinato il mio primo regalo hai visto? grande Teresa Pino Teresa Papiero giusto? perfetto meglio della mia azienda che ci si diverte ci si diverte si guadagna che siano regali o provvigioni e poi parliamo ad altri senza saperlo mamma che bella questa dichiarazione bravissima brava brava chiara come il sole anche te Maria Domenica Mazza ha preso anche lei il primo regalo complimenti e vicino al secondo facendo sempre le stesse cose ragazzi è facile invitate le persone alle nostre dirette chi non ha facebook noi trasformiamo le dirette in youtube quindi le signore possono vederle tranquillamente perché tutti bene o male hanno ormai whatsapp con lockdown che vuoi si è aperto il mondo quindi noi siamo a disposizione siamo qui per aiutare abbiamo una missione quella di dare più regali possibili a tutti quindi passate anche voi il favore e se qualcuno vuole saperne di più domani alle 18 se non erro vero e in meno di una settimana brava 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 si Milena Perry giusto complimenti e in meno di una settimana guarda io vi faccio i complimenti a tutti a parte che ci state facendo veramente tanta pubblicità anche sulla pagina siete tutte brave ricette veramente è una delle più grosse pagine quindi vuol dire che sta funzionando alla grande ma questo non grazie a noi ma grazie a tutti voi veramente oh vedi hanno ordinato ragazzi allora scusate domani alle 18 e 30 durerà circa 20 minuti all'incirca dove quelle persone che magari stanno valutando anche l'opportunità no di collaborare con noi e vi dico che è molto allettante io sono una di quelle che ha lasciato il posto fisso per tenere questo perché ho il mio tempo libero posso godermi la famiglia ok certo un po' di sforzi per arrivare magari dove sono arrivata io ci sono no ma i soldi non è che cadono dal cielo se uno vuole costruire deve anche seminare un pochino ok quindi voglio dire però qui c'è un team ci siamo sempre noi che vi aiutiamo ok avete qualche domanda ragazze avete qualche domandina da farmi poi stiamo programmando altri progettini per quanto riguarda le dirette faremo delle cose carine poi vedrete dove potete comunque collaborare un po' tutti in nature ci saranno nuovi volti nuove persone che ci daranno una mano magari per farvi vedere delle cose più mirate in diretta come si fa un massaggio come si fa la detersione come riattivare il microcircolo tante tante cose e ditemi voi facendo le stesse cose nulla più di nulla facendo cose nulla più di nulla di meno facendo le stesse cose possiamo avviare una vera attività brava Katia facendo le stesse cose ragazzi pensate c'è gente è vero nulla a togliere alla fabbrica perché con tutto il rispetto c'è gente che si fa anche otto ore pensate noi possiamo gestire il nostro tempo gestire ancora meglio con l'online perché possiamo lavorare da casa comunque mentre cucino invito le persone e queste acquistano io sto anche c'è gente qua in squadra raccolta punti che lavora in ufficio possono testimoniare li aiutiamo noi invitano solo persone questi acquistano e fanno punti capito quindi noi siamo a disposizione di tutti se qualcuno è incerta per aprire la raccolta punti avete visto le testimonianze è facilissimo basta fare un passaparola chiamate la vostra referente di fiducia o magari chi vi ha invitato a questa pagina ok vi saprà dare le indicazioni giuste brava ma quale vendita ti regala niente per niente ok hai ragione invece qua è la verità qui ci sono le testimonianze e quindi c'è gente che è entrata da da altri network ed è rimasto con noi proprio perché vede che non c'è competizione c'è solo competizione sana e poi nascono delle belle amicizie anche lontananza ma nascono veramente delle belle amicizie ve lo garantisco eh quindi ragazze Veronica Katia Palma Tito Cersosimo Katia Antonietta Iantorno volete dire qualcosa sì e nascono delle belle ricette brava perché abbiamo dei gruppi di whatsapp di supporto quindi per chi è nuovo viene messo in questo gruppo dove ci sono tu guardate ci sono c'è di tutto e di più ricette come si utilizza questo proprio le stesse raccolta punti danno consigli diventano amiche veramente una famiglia con la F grande ragazzi eh allora Antonietta K dice con la raccolta punti il magic cooker ti regala più di quello che potresti desiderare arrivano a casa senza spese di spedizione ci pensa magic cooker è vero nascono ok sono troppo contenta per te vedete che bello queste solidarietà sono proprio felice ragazzi veramente sono veramente felice va bene allora ragazze io non vi voglio rubare molto tempo abbiamo preferito selezionare persone che magari poi non fanno in tempo quindi metterne un pochino meno così giovedì abbiamo anche modo di interagire e poi complimenti a tutti perché sono tutti delle brave cuccherine si cresce anche in cucina oh guardate che bella testimonianza avete visto questa è anche bella e quindi rinnovo l'appuntamento mi raccomando domani avremo l'opportunità proprio ascolterete magari anche una mini storia no magari di come entrata una persona si è ritrovata a comunque a collaborare con noi quindi testimonierà lei racconterà magari una storia in più nella maniera più semplice vi racconteremo in che maniera ok tutto vero e io sono quindi per chi non ha fatto ancora la raccolta punti e mi sta guardando mo la dovete fare vero Katia mo mo non c'è la signora che mi precedeva e diceva mo mo la dovete fare ok grazie a te Katia Guarascio io sono brave tutte veramente sono felice perché questo è un gruppo di supporto ecco Chiara Sant'Agata puoi sentire questa testimonianza ecco va bene allora ragazze che dite miei colleghe volete stare ancora in linea io lo so che vi piaccio però magari avete delle cose vedi Maria Domenica mo 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 e mo la dovete fare la raccolta punti brava brava ragazze che dire se non abbiamo più niente non avete domande io vi lascerei ai vostri impegni Gabriella Calò mi raccomando mo mo devi collaborare con noi ok brava ricettina volete che mi metta i fornelli subito vi piacciono le ricette a sorpresa quando meno ve le aspettate faremo delle sorprese non vi preoccupate grazie grazie all'azienda per i regali bene sono proprio felice ragazze brava Emma subito magic cooker subito mo mo e mo dovete aprirla k si dice mo mo dovete aprirla mo mo grazie a voi e si è vero sono sempre presente per tutti guardate io vi dico una cosa io grazie a questo questo lavoro perché per me è un lavoro ho conosciuto delle persone sono diventate per me come sorelle katia ferretti è la mia compagna di viaggio per dire no lei abita a Bergamo io a Milano però ci siamo proprio trovate gelsomina la mia seconda mamma cioè petrilli tutte io sto facendo dei nomi ma quelle che hanno iniziato proprio proprio con me veronica briatico cioè della calabria ci sentiamo 24 volte al giorno ci vediamo in estate passiamo anche delle vacanze viaggiamo con katia cioè veramente bello grazie jessica grazie grazie io starei ore qua perché mi piace le mie colleghe lo sanno a noi mi piace fare le live mi piace interagire e Antonietta K conosco cioè ho conosciuto veramente tante persone cioè la mia amica Morena Morara che mi ama la follia è vero Morena è vero che tu mi ami grazie per tutte le volte che rispondi ai miei dubbi insieme alla mia sponsor felice ma noi siamo una squadra ragazzi siamo qua per supporto vedetele mi love tu mi love lo so mi love va bene ragazze quindi ci vediamo domani però mi raccomando domani c'è la diretta c'è la nostra Petrilli Maria ci farà due ricettine le farà per me perché domani divento grande divento aggiungo un anno ai miei anni divento più grande e quindi vediamo cosa fa la mia Petrilli va bene grazie per i complimenti io ripeto faccio il portavoce ma qui c'è uno staff grandioso le mie colleghe Veronica Katia Ferretti abbiamo Palma Tito Cersosimo che sono nuovi founder usciti adesso mo mo vedi mo mo sono usciti allora ragazze dai ci vediamo domani va bene vi mando un grosso grazie 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 Emiliano tu sei dolcissima ci vediamo domani va bene vi mando un bacio ciao a tutte ciao a domani sì Jessica a domani ciao un bacio a domani grazie Lucia grazie grande Gabriella mi raccomando pensa a quello che ti ho detto ormai si è integrata dentro brava domani un bacio ciao dai andate perché se no io non me ne vado ciao Simonetta Argeri ciao ciao chiudo bacio ciao ciao